Buonasera a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di Telegrotta. Allora, siamo qui per farvi vedere appunto un'indagine che aveva effettuato. L'indagine su cosa si basa? Sulla proporzionalità della felicità alla quantità di sesso effettuato. Facciamo entrare oggi appunto tre campioni che testimonieranno questa indagine. Facciamo entrare il primo campione. Simone, un applauso. Allegro, felice. Insomma, Simone, quante volte fai sesso tu? Una volta al giorno. Vedete com'è felice? Un applauso, prego. Ora facciamo entrare il secondo campione. Un applauso per Michele. Beh, lui è un po' meno felice. Sentiamo Michele, quante volte fai tu sesso? Una volta a settimana. Una volta a settimana. Sì, vabbè, un applauso, un applauso, insomma. Facciamo entrare il terzo campione. Un applauso, prego. Raffaele. Lui è afflitto. Lui è proprio afflitto. Perché sei così afflitto? Sentiamo, tu quante volte fai sesso? Sentiamo. C'è uno che mi supera, ma... Una volta al mese. Una volta al mese. Un applauso di incoraggiamanto. Puoi andare, puoi andare. Non mi passa l'applauso. Un altro applauso, un altro applauso. Puoi andare, puoi andare. Puoi andare. Devi fare qualcosa stasera. Puoi andare, insomma. Una roba. Due minuti. Un applauso, un altro applauso. Vai via, vai via. Lascia il numero in pacheca, bordo. Basta, vai via. Allora, facciamo entrare il nostro ultimo campione. Un applauso per Giovanni. Ehi, c'è qualcosa di più. Vai, 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 vai. Scusi, ma lei non è Giovanni. È quello che faceva sesso una volta là. Sì, sì, sono io, sono io. Perché così felice? Perché oggi è... Grazie!